Questa mattina nuova protesta davanti i cancelli della Dieli Fluids di Canosa Sannita. Ieri a Roma, presso il Mise Ministero dello Sviluppo Economico, si è tenuta la riunione del tavolo di trattativa aperto sulla vertenza che coinvolge circa 110 lavoratori. Dal tavolo poche novità, se non la notizia che circola da settembre, di due gruppi italiani del settore biomedicale pronti a trattare per rilevare lo stabilimento teatino. A diffonderla è stata la stessa Dieli Fluids che in una nota ha sottolineato la volontà di mantenere un clima sereno dentro e fuori lo stabilimento di Canosa, dando seguito agli impegni assunti davanti ai rappresentanti sindacali lo scorso dicembre. In particolare, l'azienda si è impegnata a dare attuazione ad un piano sociale che prevede la possibilità di una ricollocazione presso la sede di Cremona nell'arco del 2015 di almeno 20 maestranze. Parallelamente, si legge sempre nel comunicato Dieli Fluids, l'azienda si è fatta parte attiva alla ricerca di un compratore per l'opificio di Canosa ed ha valutato credibili due offerte di acquisizione. Ma i lavoratori per bocca del loro rappresentante RSU, Alessandro Primante, hanno detto di essere stanchi ed esasperati da quattro anni di mancate risposte d'annunci da parte di Dieli Fluids. Il clima, infatti, si sta surriscaldando dopo l'incontro di ieri tenutosi a Canosa con l'assessore alle attività produttive della regione Abruzzo Giovanni Lolli, nel quale ci sono stati attimi di tensione e soprattutto a seguito della protesta di stamane che ha impedito l'ingresso in fabbrica del direttore dello stabilimento. I lavoratori chiedono di sapere i nomi delle aziende interessate al sito di Canosa fino ad ora tenuti riservati dalla Dieli Fluids, altrimenti le stesse maestranze, ha continuato Primante, resteranno ferme alla volontà di chiusura dell'opificio. La cassa integrazione scatterà a settembre, dopodiché si avvierà la procedura di mobilità. A marzo, invece, ci sarà un nuovo incontro al Mise, probabilmente l'ultimo tentativo per salvare i posti di lavoro di 110 persone, ma non solo, per salvare gran parte dell'economia di Canosa Sannita e dei paesi limitrofi. Intanto la RSU ha fatto sapere che sono al vaglio nuove eclatanti iniziative di protesta per richiamare l'attenzione da parte delle istituzioni e dell'opinione pubblica.